Cari amici, ben arrivati in questa puntatozza speciale di 36 pose, la rubrica all'interno del nostro canale. Ciao Damiano, ciao ragazzi. Allora, puntata speciale di 36 pose, diceva la rubrica all'interno del nostro canale, nella quale andiamo a confrontare, a parlare, a ragionare su fotocamere, chiamiamole vintage, a pellicola, ovviamente da qui 36 pose, ma anche... Io sono l'esempio tipico. Esatto, infatti lui è proprio l'archetipo, ma anche fotocamere digitali di qualche anno fa. Allora, oggi facciamo una comparazione pazza con una Sigma SD4 sensore APS-C, ok, contro una fotocamera tascabile, Roberto tira fuori dalla tasca... Sì, la classica compatta... Da tutti i giorni... Sta esattamente nella tasca del giaccone, no? Esatto, sì, quello d'astronauta. Esatto, la mitica Pentax 645D, no? Esatto, una fotocamera del 2010, quindi andiamo a confrontare un sensore CCD, CCD, attenzione, da 40 milioni di pixel, quindi i fotodivodi sono grossi così, 44x33 mm. Esatto, contro un sensore APS-C... Che è la metà. Che è la metà, perché sono 15 e rotti contro 22 mm, insomma, quindi sono praticamente la superficie è la metà dell'altro sensore. Quindi uno dice, parto già in vantaggio, cioè... Insomma, non c'è partita, non c'è... Andiamo a vedere le foto e vi vedelo ragazzi, con la leggerezza sotto l'ombrellone, il bello spritz e vi divertite, ok? Questo è un po' il senso di questa comparazione. Andiamo a vedere il video. Roberto, prima di iniziare, intanto ringraziamo tutti i nostri amici che si sono iscritti, canale che è nato da poco, insomma, tre mesi circa, siamo quasi alla soglia dei 10.000 iscritti, quindi grazie di cuore, grazie anche per i commenti, ci fate faticare un botto, perché sono tantissimi e lasciatelo anche in descrizione a questo video, però ci fa piacere perché l'idea è quella di creare una community fotografica, questo è lo spirito con cui è nato questo canale, riflessioni fotografiche, per coloro che amano la vera fotografia. Allora, Roberto, entriamo in argomento perché sennò diventa lungo il video. Dunque, diciamo due cose importanti. Tecnologie di sensori completamente diverse, perché la Sigma monta il famoso, il famigerato, il tanto atteso sensore foveono, almeno atteso sensore foveono full frame, cioè un sensore foveono quindi a tre strati, in realtà questo è un sensore foveono 4, insomma, poi tutte le specifiche le abbiamo trattate in altri video, insomma, non ci allunghiamo da questo punto di vista. In sostanza, l'obiettivo dei progettisti di Sigma e della Foveon Corporation era quello di ricreare il mood della pellicola, insomma, la profondità colore tipica della pellicola, che come sapete, appunto, ha tre strati colore. Parliamo ovviamente della pellicola colore, questo è scontato. Mentre Roberto, invece, nel 6.45, è un bel CCD, un sensore che è stato, diciamo, la prima tipologia di sensore, rappresentata quando sono state messe sul mercato le macchine digitali. Un sensore che ha la nomea, giustamente, devo dire, di avere un look, un mood, una colorimetria, non è assolutamente non equiparabile ai CMOS attuali. Infatti, tante macchine di tanti anni fa, anche il dorso Kodak, per dire, oppure il dorso che Kodak ha fatto per Leica, per Assembland, per Assembland, colorimetria eccezionale. E poi questo ha una superficie amplissima, quindi parte con tutti, diciamo, i pronostici a proprio favore. È una macchina, comunque, che, secondo me, è eccellente, voluminosa, sì, certo. Adesso, per dire, le Fuji è super full frame, sono molto più compatte, però devo dire che è costruita benissimo, è a Merino Reflex, che è la fine del mondo. Sì, sì, sono d'accordo. Due cose veloci sull'esperienza d'uso, poi, magari, se vi interessa, insomma, ne parliamo in maniera più specifica. Mi sono andato a fare questi scatti, che vedrete, ci sono assolutamente dei test, quindi non vi aspettate l'opera d'arte, però nel fare questi test già ti rendi conto dei prodotti. Cioè, secondo me, la 645D, Roberto, è come dovrebbero essere costruite le fotocamere. E intanto, vabbè, robusta, all'ennesima potenza, ti dà l'idea proprio che casca per terra, buon, trovi un petrolio. Un cararmato. Sì, un cararmato, esatto, proprio una tank. E l'altra cosa che mi piace è che ci sono tutti i tasti praticamente diretti. Cioè, tu nel menu te lo scordi, non ti ricordi neanche dov'è il tasto menu, perché, giusto per formattare la scheda, una cosa bestiale, ci sono tutti i tasti, le ghiere, cioè veramente un prodotto professionale, addirittura con il doppio possibilità di innesto della piastra del trefiede, quindi in verticale e in orizzontale. Insomma, all'epoca non c'erano i piastradelli, ma comunque, per farvi capire, un prodotto, ragazzi, veramente fatto bene ed esperienza d'uso è veramente molto, molto, molto vicino alla fotocamera a pellicola. Quindi, se cercate una fotocamera che vi dà l'esperienza d'uso di un medio formato a pellicola, veramente, cercate questa fotocamera perché merita assolutamente. Non facile da trovare. Non facile da trovare, ancora un po' costosina, se vogliamo, consideriamo che è del 2010. Lenti che le trovate a quattro spicci, quindi è un affare anche da questo punto di vista. Autofocus che non è per niente lento rispetto a quello che dicono, certo, in condizioni di luce più difficile, magari fa un pochino più fatica, però, ragazzi, è una fotocamera molto, molto, molto usabile. Gli manca, di fatto, la stabilizzazione e il display orientabile che poi hanno messo nella Z, non nel modello successivo. Per quanto riguarda la Sigma SD4, non vi diciamo niente perché faremo un video dedicato alla Sigma SD4 e al paesaggio. Siccome me lo chiedete almeno tre, quattro volte al mese e mi arrivano email di persone che mi chiedono come va la Sigma SD4 ancora oggi nel paesaggio, ci facciamo un video dedicato, facciamo prima. Comunque, allora, abbiamo fatto i test, ragazzi, vi spiego un po' come condotti i test, cercando di comparare la profondità di campo, va bene, quindi a parità di profondità di campo perché altrimenti l'effetto fuoco, fuori fuoco poteva ingannare un po' l'aspetto percettivo delle immagini. L'esposizione ho cercato il più possibile di ricreare lo stesso livello diciamo di luminosità e non è facilissimo perché entrambe lavorano in tempo con una luce in maniera un po' diversa, poi sapete che la trasmittanza e il contrasto dell'obiettivo ovviamente incidono tantissimo. E anche l'obiettivo stesso. Sì, appunto, l'obiettivo ma anche i profili della macchina, quindi insomma è complicato proprio fare una sovrapposizione perfetta e per questo che il video va visto anche con la dovuta elasticità, quindi insomma non fate quelli miticolosi perché super pignoni ecco super pignoni perché insomma Roberto poi è un attimo che sbrocco no, non è vero però cercate insomma di vederlo con la dovuta elasticità. Allora concentreremo ragazzi soprattutto sulla resa cromatica ok e sulla percezione della materia e della luce a me interessava questa cosa qui cioè io questo test l'ho fatto per me perché la Sigma SD4 l'ho confrontata con tutto e tutti praticamente le tipologie dei sensori mancava lei mancava lei quindi sono uscito a rimediarla grazie insomma a Daniel che è un amico che insomma che me l'ha prestata e quindi dico voglio vedere effettivamente se questo SSD così grande così di qualità può essere quello che butta giù dalla torre perché di fatto adesso l'SD4 l'ha data a tutte è piccola ma cattiva come una carogna sì sì esatto è un piragna è un piragna voglio vedere se riesce effettivamente a buttare giù dalla torre la Sigma SD4 ai posti rialdo sentenza facciamo vedere i test e poi ci direte voi primo test ok chiaramente rapporto 4 terzi rapporto 2 terzi qual è la macchina dopo però mi sono fatto furbo dico aspetta che metto il 4 terzi anche con la cosa comunque il primo allora andiamo a a confrontare ingrandire perché qui insomma è un ingrandimento che vedi un pochino la differenza le due immagini quindi a destra ragazzi avete la Pentax questa qui insomma sulla destra a sinistra abbiamo la nostra Sigma a parte una bella macchia sul sul sensore di sporco ma comunque non ha importanza allora Roberto già da qui si nota qualcosa di interessante sì anche perché un metodo di giudizio quasi basilare ma fondamentale per capire la qualità di un sensore la resa cromatica scusatemi sono i verdi e i verdi cioè sono veramente una spada di Damoc per tutti i sensori diciamo tutti i colori primari RGB per i sensori CMOS sono carogne funeste allora qua la cosa interessante Roberto che penso che tutti i nostri amici già hanno notato è che ci sono molte più sfumature passaggi tonali sì passaggi tonali ma soprattutto sfumature di verde no? cioè qui vedi diversi tipologi di verde e quindi vedi sostanzialmente una sola poi è chiaro che lavorando un po' il bilanciamento del bianco lavorando un po' sulla tonalità puoi diciamo avvicinarti ma non puoi così tanto e alla fine vedi anche qua guarda qui si vede della foschia classica la foschia classica azzurrina qui il bilanciamento del bianco qui probabilmente tende un pochino al verde però vedi che sostanzialmente c'è proprio una profondità colore molto diversa e anche devo dirti la verità anche la nitidezza insomma la nitidezza ci vediamo un occhio un po' sull'obiettivo ecco sì perché abbiamo utilizzato il 5528 quello di Pentax che non è un obiettivo stratosferico però devo dire che neanche il 31.4 Sigma cioè l'obiettivo insomma il migliore obiettivo fatto da Sigma quindi insomma sono gli obiettivi che secondo me un po' si pareggiano anche qui insomma c'è proprio diversità non so se sei se sei d'accordo assolutamente guarda anche quell'albero di fronte alla casa esatto quello dove ci sei sopra adesso con il mouse la differenza è notevolissima nella gamma di verdi lascia un po' io li vedo sto guardando adesso ragazzi la prima volta che li vedo mi ha lasciato un po' scompensato lo stesso asfalto cioè proprio sono letture completamente diverse ma specialmente appunto come diceva Damiano sono sono i verdi che vengono fuori in maniera pesante si guarda qua questo è il classico verde seppur ottimo perché non è il classico verde uniposca che si vede nelle fotocamere digitali però qui è molto più naturale molto molto più naturale allora cambiamo immagine vediamo sempre il tema dei verdi che sono particolarmente complicati allora a sinistra avete la Sigma SD4 lo vedete insomma un file anche un pochino più piccolo a destra la Pentax 645D allora qui è stato un pochino complicato proprio di creare esattamente la stessa luminosità perché insomma la luce non è che sei studio un po' va un pochino viene quindi perdonate insomma se non è proprio identico però comunque per quello che serve a noi possiamo farci un'idea allora cerchiamo di trovare lo stesso ramo mi sembra che sia questo qui riduciamo un pochino ok anche qua Roberto la resa è completamente diversa ora qui diciamo le zone più luminose sono al limite perché ripeto la luce era un pochino più intensa e quindi ovviamente c'è una riflettanza diversa sulle foglie però diciamo che insomma qui è sempre più omogeneo non so se sei d'accordo sì d'accordo ma vedo anche una differenza pesante su quelle che sono le varie tipologie di verdi anche quelle foglioline che sono più illuminate capti proprio la differenza di tonalità ed è sicuramente io non c'era in quel momento quando facevi gli scatti però è esattamente quella tonalità di verde è questo che lascia sorpreso della tecnologia Foveo sì l'interpretazione corretta della realtà sì sono d'accordo tra l'altro guarda io sto guardando anche il tema un po' della nitidezza è veramente impressionante cioè del micro dettaglio è un sensore molto più piccolo con molta meno definizione perché è praticamente la metà 19 contro 40 eppure tiene botta paurosamente andiamo a vedere qualche altro scatto sai anche per quanto riguarda la nitidezza non dovendo interpolare il file del Foveo non vuol dire tanta roba sì intanto qui vediamo altri due scatti condizioni di luce appena diversa nel senso che è un pochino come al solito un pochino più intensa qui sul Foveo un pochino meno intensa qui sulla quando ho scattato con la Pentax però sostanzialmente siamo lì resa materica molto buona da parte di entrambi non so se sei d'accordo assolutamente beh certo CCD non è che si scopre adesso no ma CCD insomma è tanta roba andiamo a ridurre un pochino qui piccato mi interessava la percezione dell'acqua Roberto che è una cosa anche questa piuttosto complicata andiamo a vedere un po' sulla zona di messa a fuoco allora a parte c'è una diciamo una sorta di chiarezza maggiore nonostante ho messo tutto a zero i parametri i parametri in fase della Sigma ho utilizzato il software proprietario e l'ho esportato in TIF mentre questo è il DNG della Pentax quindi ovviamente insomma è un DNG quindi va anche un attimino e anche teniamo conto la differenza di illuminazione che ci può essere da uno scatto all'altro però quello che vedo è una materialicità a favore del foveo questo è il dubbio la trasparenza sì vedi qui si percepisce questo verde qui è molto più evidente ora dipende anche dal profilo colore insomma dipende da tanti fattori per l'amore del cielo ragazzi però diciamo che la sensazione vediamo qui nella zona in ombra la sensazione di luce comunque ce n'era di più in quel momento in cui ho scattato con il foveon ma comunque vi posso garantire perché il foveon lo conosco molto bene la percezione che ti restituisce di luce il foveon è veramente elevatissima e non ti ho chiesto a quanti ISO hai lavorato ISO nativi per tutte e due ho usato gli ISO nativi per entrambe sì assolutamente si difende molto bene però vedi io guardo sempre vedi questa quella percezione qua dei verdi qui devi lavorare c'è un po' di giallo dentro devi scaricare quindi per poter avvicinarti a questo però il problema Roberto è che poi dopo su un'immagine del genere cioè quando tu cominci a lavorare è facile fare dopo metti a posto una cosa smonti un'altra questo è un po' il problema qui la luce la percezione è diversa ma la luce era uguale sì si vede perché l'ho fatta praticamente a distanza di pochissimo e la luce era uguale me lo ricordo molto bene secondo me è proprio il foveon che ti dà una spinta in più in termini di luce comunque prescindere da questo andiamo a vedere un attimino qui possiamo vedere anche un po' il micro dettaglio anche se ovviamente partiamo al punto di messa a fuoco era più o meno qua questa zona cerchiamo di riproporzionare un po' tutte e due uguali ok direi che più o meno ci siamo allora che dici Roberto? la prima cosa che vedo la differenza è di cromia ok questo può essere anche l'interpretazione del bianco del bilanciamento del bianco e quello che vedo accidenti nonostante chapeau ci si dì perché secondo me ci sono pochi cimos che tengono che tengono a bada questo ccd di vecchio di 20 anni 20 no ma quasi è il micro dettaglio e la materialicità che ha che ha Sigma e cioè non si smentisce mai sta macchinetta qua scusate macchinetta non voglio offendere nessuno però la macchinetta nel senso che ha un piccolo sensore mi immagino se avessi un sensore grande formato se sarebbe una cosa da urlo impressionante questa parte qua come ha interpretato diversamente il sensore ovviamente anche poi il firmware della resa colore tutto quello che ci va dietro si anche il software stesso il software stesso ovviamente si vediamo qua una parte del tronco beh sono fatto benissimo anche le SSD si assolutamente perché vedi anche le SSD nonostante il 55 non sia l'ottica migliore in casa Pentax comunque ti dà questo dettaglio molto naturale si devo dire non è non è un dettaglio digitale no è sempre molto naturale vabbè quindi andiamo fuori fuoco comunque insomma resa diciamo diversa in questo caso percezione di luce un pochino maggiore secondo me nel Foveon comunque bellissima resa anche da parte della devo dire anche da parte della Pentax ok altra situazione quindi andiamo a vedere un po' le zone in ombra come si comportano le due macchine c'era un po' di vento quindi vabbè insomma considerate questo fattore a destra avete sempre la Pentax a sinistra sempre la Sigma ok sulle superfici diciamo non naturali come in questo caso il muro le differenze si assottigliano anche se c'è un pochino più di diversità anche in questo caso però le differenze questo l'ho notato sempre nei colori naturali dove probabilmente sono più sfumature colore il Foveon ti restituisce sempre qualcosa in più invece su quelle in porti viciali dove probabilmente c'è meno sfumature colore e sui verdi è sempre impressionante comunque veramente è incredibile non so se sei d'accordo assolutamente però si stavo guardando per dire la superficie dell'edificio le differenze si assottigliano è chiaro comunque che c'è sempre anche qua vedo una tenuta sulle alte anche perché l'esposizione è praticamente identica diversa di Foveo c'è più dettaglio ci sono più passaggi tonali c'è poco da fare ma allora io ho cercato tieni conto di compensare la profondità di campo quindi proprio la tride non è esattamente la stessa poi c'era anche il fatto che il valore isonominale non è identico perché è stato un po' complicato dal punto di vista insomma ho utilizzato un seconisce esterno per cercare di trovare insomma la la terna corretta per entrambe diciamo un pochino comunque diciamo in questo senso vabbè qui vedo sempre qualcosa in più nella parte qui sopra però devo dire che mi piace molto anche il tema della resa del CCD dal puntista materico molto buono altro scatto qui intanto guardiamo un attimino la resa del cielo a sinistra avete sempre ormai avete capito il Foveo e a destra qui interessante perché a parte lo sporco che devo farlo pulire comunque a parte quello Roberto ti faccio notare che qui c'è più magenta assolutamente cioè è palese ok che ci sia più magenta e invece la montagna è molto più verde sì ma la resa è questa qua cioè tu mnemonicamente ti ricordi quella quella che assolutamente sì ma soprattutto perché questa è la classica foschia della giornata estiva cioè pre-estiva insomma di questo periodo sì si percepisce la foschia si percepisce l'azzurino e la foschia qui invece sembra una desaturazione esatto un abbassamento di contrasto quindi anche se tu dici ok cerco di ridurre il verde diventa parte abbastanza complicato anche se dovresti andare di maschere però insomma diventa anche qua guarda che differenza cioè è incredibile vedi qui si percepisce del giallo no qua praticamente zero ora se andiamo nella parte qua l'ho fatto apposta dei campi qui è qui è veramente molto evidente sì qui sul foveon si vede parecchio giallo sì il fieno invece sul pentax sul ccd si appiattisce il tutto in questo caso si è appiattito molto ripeto sicuramente incide un po' il bilanciamento del bianco però vedete che non è che il bilanciamento è totalmente sballato ragazzi cioè il bilanciamento ci siamo se riduciamo sempre un pochino per dare più o meno anche percezione un pochino più di insieme vedi qua cioè come ti dicevo Roberto guarda sulla parte delle superfici diciamo quelle naturali vedi che le differenze sono molto più sottili cioè questa è una cosa che ho sempre notato del foveon cioè sulle superfici fatte dall'uomo quindi con poche sfumature cromatiche non è che esce fuori in maniera importante infatti a volte ho visto dei test in rete che dicono ah ma più o meno uguale sì ma se tu fai la foto di un muro è una cosa fai la foto di un campo di grano e dove ci sono superfici o trame con più sfumature più passaggi che viene a fare la differenza e dove non c'è interpolazione esatto devo dire che mi piace molto anche il cielo c'è del magenta però mi piace molto assolutamente l'interpretazione sì sì devo dire che è molto molto bello questa immagine anche qua del ccd questa c'è più diversità cioè tra questo colore questo colore questo colore insomma c'è più diversità e questo insomma dà un effetto un pochino che era tipico poi della pellicola questo è un po' il concetto allora test con l'incarnato l'incarnato la posa la foto fa schifo però ci serve giusto per capire no non è la foto il soggetto la foto giusto per capire allora la prima cosa interpretazione dell'incarnato completamente diversa intanto vabbè chiaramente la focale è molto diversa per cui la prospettiva è diversa la prospettiva è molto più bella devo dire quella della 645 però non conta adesso non è questo il tema allora l'incarnato che ha creato Pentax lo vedete a destra è molto più rosso quasi da problemi di pressione alta cosa che non è così non è questo l'incarnato adesso qualcuno magari mi uccide una una interpretazione alla cano alla cano è un po' sì è un pochino quel malgentino ok andiamo a ingrandire che poi sarà anche piacevole c'è chi piace no no assolutamente assolutamente più o meno ci siamo come ingrandimento ok siamo più o meno qua allora qui c'è il tema un po' il micro dettaglio e lì può correre l'obiettivo la distanza di lavoro il sistema di messa a fuoco insomma tanti fattori però comunque il micro dettaglio del focale non fa sempre paura devo dire la verità ad ogni modo ancora una volta c'è maggiore percezione di luce non so se sei d'accordo sono d'accordo e quello che mi dà tra virgolette fastidio su pentas in questo caso è la proprio lacromia cioè io vedo una spinta troppo quello che è una tendenza verso il rosso verso il rosa porcello passami mentre vedo molto più naturale io non c'ero però mi immagino mi immagino che la scena fosse quella te lo dico perché poi mentre facevamo i scatti confrontavamo e quindi ci serviva anche un riferimento il micro dettaglio ci vado sinonitico la verità perché appunto concorre tantissimo l'obiettivo e comunque ripeto il CCD mi piace molto come interpreta l'immagine c'è presa se stante è un bellissimo file indubbiamente hai l'ho parlato a mano libera o sul cavalletto tutto il cavalletto tranne questo allora non poteva mancare la foto del gatto perché se non c'è il gatto allora qui ovviamente ragazzi non è che i gatti collaborano a un certo punto si è messo l'altro gattino abbiamo provato a farlo scendere però è giusto che insomma non è che per rompere le balle a loro allora dunque rischiamo di proporzionare a destra il 645 a sinistra il foveon ok che dice Roberto al solito colori diversi lettura diversa micro dettaglio devo dire al solito ce n'è più più che micro dettaglio è proprio la matericità che ti dà il foveon che è diverso perché di dettaglio ce n'è anche nel pezzo e tra l'altro è un bellissimo dettaglio non spinto non digitale no veramente molto molto bello sono sincero cioè ora vabbè qui ragazzi è un test un pochino difficile perché ripeto fare proprio esattamente lo stesso scatto non ci si riesce ma il gattino a regola era anche stato bravo perché la pose è la stessa è l'altro che si è messo in mezzo poi insomma la focale è diversa cioè erano tutte e due più o meno un angolo 45 millimetri più o meno come focale però cambia un po' insomma ma questo è uno scatto anche che evidenzia la bontà delle ccd di pentax sì sì assolutamente percezione di luce comunque seppur buonissima nel 645 sta appena sotto però sempre un pochino maggiore voglio solo vedere un attimo aumentando un po' l'esposizione per emulare l'altro ci siamo per meno eh ci sei però cambia tutta l'immagine cioè qui devi andare di maschere per emulare e fai fatica eh sì no comunque la percezione di luce è sempre più forte qua c'è poco da fare vabbè l'ultimo test qui vediamo insomma diverse sfumature anche in questo caso di verde e praticamente a parte il colore del rosmarino vedi cioè questo è il rosmarino il rosmarino ti assicuro che è quello di sinistra eh sì sì ma anche qua guarda questa è una cosa che mi ha colpito cioè guarda la differenza tra tra questo che era quello reale e questo qui che è un verde che è il classico verde da Bayer cioè la matrice Bayer cioè c'è poco c'è poco da fare è inutile che ci ci giriamo intorno è così insomma guardiamo anche un po' la parte guarda questo è super 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 naturale adesso noi speriamo che si riesca a leggere bene anche durante il video su youtube o quello che state utilizzando ma vi assicuro che il verde rosmarino è esattamente quello e sembra una stupidata ma fare quel verde in maniera corretta e non è che Damiano si sia messo lì a fare chissà quali voli pindallici per mettere a posto il bilanciamento la colorimetria è così allora Roberto conclusione conclusione a me piace in botto questa perché mi piace proprio nell'ultimo workshop che abbiamo fatto in Val d'Orcia c'era anche Daniel aveva questa un attimo me l'ha prestata tre secondi ho goduto come bambino piccolo ad operarla un po' per la macchina un po' per la visione su mirino ottico un po' anche per il suono dell'otturatore che è molto molto piacevole quel flap di vecchia memoria una roba godirosa però la piccolina ragazzi è micidiale facciamo sentire i nostri amici è quasi una feticista sì sì questa è proprio una roba tipica del macchina pellicola medio formato fatto sta che la piccoletta ragazzi è randella ancora è cattiva come una peste ragazzi è cattiva come una peste va bene insomma ti abbiamo dato sì ma metti la mano sul cuore e anche sul portafoglio nel portafoglio ciò dobbiamo mettere noi ragazzi preghiamo in un fove una fotocamera fove nuova con un attacco e le mount insomma che sigma ci esodisca in questo desiderio va bene ragazzi dirci voi cosa avete visto dal vostro computer dal vostro mono dal vostro tv insomma che impressione avete fateci sapere la vostra opinione e ci vediamo al prossimo video di 36 pose ciao ragazzi ciao